Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Allora, vedo che piace molto FIFA 13, vedo che vi piacciono molto le mie sclerate Allora, facciamoci un'altra partitella online come al solito, facciamoci una personalizzate Una testa a testa e cerchiamoci una partita come al solito che parte immediatamente Perfetto, l'abbiamo già trovata raga Chelsea contro... no, che cazzo di... Vabbè ragazzi, andiamo su Io... vediamo di prendere da cosa prende lui Aspettate, vediamo un attimo ragazzi cosa prende Prende il Bayern, ok Io ragazzi, purtroppo quando prendono squadre così forti Non posso far altro che... Gioca... che cos'era? Ah, dai, prendiamoci il... Il Borussia Dortmund, ragazzi Giusto per fare la finale di Champions League di quest'anno Allora, dov'è? Il Borussia deve essere qui ragazzi Eccolo qui Dai Ovviamente un pochettino più scarso il mio Borussia Ma vabbè Bello, non mi dà neanche la meta Eccolo Perfetto Allora, io non so come sia apposta Non so come sia messa la squadra Vediamo un pochettino Allora, questo... Goz è fuori Ma stiamo scherzando Vediamo chi è più veloce Diciamo che Reus lo mettiamo in fascia Allora, Lewandowski è l'unico attaccante Va più che bene Blagikoschki Blagikoschki Kelk Inizia lentissimi ragazzi Veloce Lento Lentissimo Lento ancora di più Lento all'ennesima potenza ragazzi Ok, a posto Vai, partiamo così ragazzi Non ho voglia di fare altro Ehm... Vediamo cosa riusciamo a fare Pzzznek Pizzisnek ragazzi Pizzisnek Provai il tiro Rete Pizzisnek riesce a segnare Eccola ancora Pizzisnek Le sue finte Le sue finte non fa tirare Peccato Pizzisnek la sua carriera finisce qui Partiamo subito Buyer Monaco Produce Adoptment Allora Termi un attimo che mi allontano le cuffie Altrimenti l'ho sentita Sentite anche il suono delle cuffie Da fastidio Allora Vediamo cosa riusciamo a tirar fuori Dai, grande su, Bottic Uh, grande Grande Cos'è? 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 Perché fate questi passaggi, raga? Miola Troppo forte il... Il... Borussia Eh sì, il Borussia Il... Bayer Monaco Si muovono bene Nessuno a centro Ovviamente Alaba Blazikoski Mojartia subito via Grandissimo Allora Questa è una bella partita Sinceramente Penso che mi faranno il culo Perché Ma almeno sulla carta Uh, grande Reus Reus Come che si chiama ragazzi Non me ne fanno un cazzo Schmeau Ma cos'è? Cos'è? Andiamo 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 Grande Sviluppano il gioco Eh, fallaggio Fischia Lo grande Ammunizione Si cazzo Bass Tuber Ammunito Allora le cuffie mi scendono Perfetto Facciamo prima a togliercene una E a mettere da dritta le cuffie così Con Reus Reus Vediamo se riusciamo a farlo segnare Reus Che schifo Eh, si Cosa c'hai? Un cannone nelle mani Noia Mamma mia che schifo Mario Gozze Se non sbaglio L'ha comprato il Bayern Monaco Minza Ha fatto un acquistone ragazzi Veramente un giovane di talento A mio parere Poi non so voi Se vi piace Come Ma cosa fai? Ma cosa fai? Anche io avrei chiusato molto di più Lewandowski Lewandowski Non so se non so se ve lo ricordate Io ho visto dei cazzo di gol Allucinanti In Champions League Veramente fantastici Ghiuzze Ghiuzze Lewandowski Che schifo Lewandowski Che schifo Lewandowski Ancora lui Ci prova Però dai Non sto scherzando Lewandowski Veramente è forte A questo tipo Non sa usare il Bayern Monaco E si vede E vi giuro Si vede Io ho sfidato gente Col Bayern Monaco Che mi sa Ma perché? Ma perché? Io gli ho fatto Di farla passare in mezzo alle gambe E lui invece non la fa passare in mezzo alle gambe Ma che palle raga Bello Basta Passaggio a buon fine Uh Lewandowski Che gol Lewandowski Che gol Lewandowski ragazzi Che gol Lewandowski Dottoski Mamma mia Questo ragazzo è veramente fortissimo Perché non lo acquista Una squadra italiana Non lo so Eccolo subito Che sta impazzendo ragazzi La gente che impazzisce Vedete ragazzi Cosa succede Quando si spende un gol D'avversario Reus 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 Vai Noo Che schifo Grande Vai ancora Chiao Chiao Ancora Noo Ma che controllo di merda avete ragazzi Dai Grande Umelz Umelz contro Robben Mamma Umelz Mi sembra un po' strano Però che Umelz Si riesca a tenere la testa A Dai Vai Che portiere di merda No non ci credo ragazzi Non ci credo Ma non so se l'avete visto Che schifezza Ma dai Che portiere del cazzo Grande Subotic Grande 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 Levandowski Levandowski Parte Levandowski Parte Levandowski Parte Levandowski Alabanos Eh Dante non so se lo prende Che cazzo è non lo so Ma che schifo dai Ma ragazzi Mi sa che era l'Abo Chi cazzo è sto qua Non so Chi si è sto Quoco con un c'espuglio in testa Beh Comunque sia Cerchiamo di Dai di testa Ma perché non l'appendi Con quella cazzo di mano Che domanda Che ho Levandowski Levandowski La passa su Royce Su Goze Goze Supera il primo E ovviamente non supera il secondo Un pochettino più fisici Un pochettino più fisica La difesa del Bayer Monaco Ma vabbè Ma Hummels Vedi ragazzi Un altro acquisto che dovevo fare Le squadre italiane Hummels Dio santo Hummels Tira Che gol Ragazzi Royce Che gol Ma che cazzo Ragazzi 2 a 0 Bayer Monaco Bayer Monaco sotto i due gol Schweinsteiger Schweinsteiger Eh vabbè Avrà delle stelle il mio Borussia Però anche loro hanno campioni del calibro di Ribery o di giocatori ancora più forti Lewandowski 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 Lo supera Wow Wow Che gol Blacikowski 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 3 a 0 3 a 0 Il Borussia Dortmund segna anche il 3 a 0 Il Bayer Monaco è sotto Ovviamente incominciano gli scleri No Che errore ragazzi Però è meglio fare errori così almeno il tipo non abbandona Cross Bellissimo Mamma mia Weydenfeller Para la palla Riesce a pararla Ancora il Bayer In attacco No Grande Che schifo Questo tiro ragazzi Andiamo avanti Weydenfeller Riputta via la palla Grande Ma che cos'è questa cosa Cos'è Cos'è questo controllo ragazzi Balsano le Balsano i palloni Non si capisce il motivo Lewandowski Non sbaglio un passaggio Mamma mia Blacikowski Rete Blacikowski 4 a 0 Ma che contropiede del Borussia Dortmund ragazzi Che gol ragazzi 4 a 0 Il Bayer Monaco sempre più schiacciato Lewandowski Lewandowski Ancora lui Ancora lui Ancora lui Ma dai Ma che cazzo di tiro di passaggio è È un pochettino più forte Mamma mia Mamma mia Ci prova ancora il Borussia Il Bayer Monaco Mamma Ma che cazzo fai Ma che cazzo fai Ma che cazzo fai Ma me lo scuola grande Schmelzer Grandissimo Che Ma cosa fanno in velocità Veloce Veloce questo Borussia Dortmund Ma che parata Che parata Che parata Neuer si vede lui L'unica L'unico Faro Uh ancora Ancora Rischia tantissimo Provo ancora Ma no Le sta parando tutte Le sta parando tutte ragazzi Schmelzer Ancora lui Ci prova Ancora Dai Difesa scopertissima ragazzi Ma ce la fanno Pizzi snack Pizzi snack Mamma Pizzi snack Ma cosa Cosa blocca grande No Sì No Sì Grande No Che cazzo Mamma Ancora Subotic contro Ribéry Ribéry contro Subotic 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 Un po' lentino Subotic Il cross Mamma mia Bayern Feller la para Subito ripartenza Blazikowski Blazikowski E ovviamente Si ferma il primo tempo 4 a 0 Grandissimo Questo Borussia Dortmund Bayern Monaco 0 Borussia Dortmund 4 Nell'allianzarema Nonostante tutto Riesce a controllare la partita Il Borussia Allora Gomez Eh sì Gomez Che è Lewandowski Che ha ancora lui Buona giocata Dai Grande Ma dai Ma dai Che palle Andiamo Noier ributa via la palla Gozze Eh Müller Müller contro Gozze Anzi Subotic Che cazzo è Umel si recupera la palla Ovviamente i passaggi fanno schifo ragazzi Subotic contro Reberry Reberry riprova Ma c'è Weidenfeller Weidenfeller la passa subito A Reus Reus Oh Reus Che numero ragazzi Mamma Gozze Gozze Che schifo gozze Ancora Reus Piano il passaggio Piano il passaggio ragazzi Piano Heavy Martinez Heavy Martinez Müller Müller Gomez Ci prova Ma non riesce ad andare avanti Vai Vai Stagga Mamma mia Subotic recupera Contrasto in scivolata Mamma mia Reus Reus Che controllo del cazzo Reus Reus Che gol Reus Mamma mia Ma 5 a 0 ragazzi 5 a 0 Reus Che giocatore Ma cosa ha fatto Ma rivediamolo Ma rivediamolo Ma rivediamolo 5 a 0 E la partita comincia Adesso se l'ha tentato da solo Bello questo passaggio ragazzi Bellissimo Mamma Su gozze Giozzo Giozzo ragazzi Uh Passa con il tacco Ancora smalza 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 Grandissimo Ma dai Pizzi snack Recupera la palla Si fa spazio Intervento in scivolato Da parte del difensore Che parata noyer Che parata noyer Andiamo Royce battle Caccia d'angolo Noyer la para Grandissimo Ok grande Recupera ancora il Borussia Borussia Sta gestendo la parità In maniera impeccabile Pizzi Non so neanche che cazzo fosse Ah Kau Sbaglia Kau Che schifo sta facendo Cosa sta facendo il Bayer Monaco Non si capisce Giozzo Giozzo Io voglio un gol di Lewandowski Giozzo 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 Müller lo supera Ma che schifo di tiro Müller Non si riconosce Mamma mia il Bayer Monaco Oggi è in giornata Nerissima Dai Ma che cazzo di gambe hai Grande Subotic Vai Grandissimo Parte subito Blazikowski 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 Riparte ancora il Borussia Il Borussia sta gestendo la parita in maniera tranquillissima Giozzo 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 Ancora Giozzo Eh dai ma gliela tira addosso Maddio santo E che cazzo vai Subotic contro Giomez Ma Giomez è un po' lentino Ma co Dai ma che cazzo fai Te ne vai via Ma vai a cagare Eh dai Grande Parte I parte 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 Hanno ampi spazi per ripartire Attenzione grossinario Di primo Oh che tiro cazzo Ma sta parlando sempre noi e smelter 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 Ma dai Ma dai Grande Blazikowski ancora Blazikowski ancora Subotic 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 che che gran difensore ragazzi Oh falla C'è colo qui Weinstaga Ammonito Ragazzi io mi sto divertendo troppo in questa parita Non so voi se vi state divertendo Io mi sto D Letteralmente Divertendo Mi sto proprio Mi sto facendo un casino di risate Eh Dai Ma dai Ma che palla Ma ci metti 30 anni a recuperare un pochettino di equilibrio Pizzi snack Uh subotic 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 No ma boh Lewandowski 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 Che schifo Lewandowski Ha spiegato una buona occasione Hanno fatto tutto Machchettiri ragazzi Schetti Ribery contro Pizzi snack Pizzi snack recupera la palla Invece no Umel Umel su Cal 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 8 minuti da giocare E tre scivolata Dai Eh dai ma ti rialti sempre tu più tardi Gioco di passaggi Cross in mezzo Era ovvio il cross Fa sempre le stesse cose ragazzi Ma che cazzo fa Guardate No ragazzi Ma veramente Non si mette neanche a corre Daaa Cioè rimane bloccato Mamma mia Lewandowski Lewandowski Uh E dai Ma che schifo Il Borussia non vuole umiliare ulteriormente il Bayern Mamma Parte il contropiede Doiii Non esce vai Denfell Non esci 5 a 1 ragazzi Al novantesimo Fanno il gol Almeno della bandiera Vediamo un pochettino cosa possiamo fare noi Vediamo se riusciamo a fare il 6 a 0 Il gol è arrivato troppo tardi E non gli basterà per tornare in partita Il lancio arriva sui piedi del compagno Pare che abbia un salto Al posto dei piedi Occhi Due minuti da recuperare Come indica il tabellone del quarto uomo Lewandowski Passaggio a buon fine C'è l'uomo a terra Sembra che Leandowski Dai ma Ma dai Ma dai Sei un coglione Royce Ma che cazzo Ma cosa vuoi fare Ma cosa vuoi fare contro Hummels Ma cosa vuoi fare contro Hummels Grande vai Grande E vince il Borussia Dortmund 5 a 1 ragazzi Una batosta Lewandowski Royce Blazikoski Blazikoski Reis Grandissimi raga Ovviamente chiediamo qui la partita Spero che il video vi sia piaciuto Spero che la partita vi sia piaciuta Comunque sia ci sono stati un bel paio di gol Ehm Quindi che dire Iscrivetevi Commentate E mettete mi piace Se ovviamente avete apprezzato il mio video Da cura e nuova data è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao raga